Ciao amici di Italia 2 Games, allora giovedì 19 settembre il giorno classico degli aggiornamenti di PES 2020 dopo questo aggiornamento a sorpresa del lunedì non so nulla quindi vedo con voi tutte le novità, prima di passare a PES 2020 però vi ricordo che oggi si può vincere il bellissimo headset da gaming di Asus ROG Delta Core un headset perfetto per PC, per console, per mobile grandioso, basta andare alle 15 sulla pagina Facebook di asusrog.it e per scoprire la domanda che faremo poi alle 16 sul TG Tech di Simpli Radio, l'appuntamento oramai lo dovreste conoscere comunque se non lo conoscete ci sono tutti i dettagli su italiatofgames.it, su videogiocaregratis.it e appunto oggi su asusrog.it alle 15 trovatevi sulla pagina Facebook per scoprire come vincere veramente un premio di un certo valore allora, cosa scopriamo oggi nell'aggiornamento di PES 2020? in primis i giocatori in forma, ricordiamo che non ci sono, le coppie europee non vengono prese in considerazione se no probabilmente Mertens e Llorente li troveremmo qui comunque Neymar su Aris van Dijk, Salah li vedete anche voi, scendiamo piano piano poi se volete potete fermare il video, eccolo comunque, Mertens c'è si scende, si scende, c'è pure Mare Kamsik, ci fa piacere Meret del Napoli, ottime parate, Raul Albiol, ex del Napoli Fabian Ruiz, Oscar, Dembélé e tanti altri vediamo chi scende, scende Oblak, scende Insigne, scende Matuidi, Diego Costa, Socrates, Paolo Lopez e Tano, Joao Felix, Pussetto e tanti tanti altri allora, andiamo un po' a scoprire cosa ci propone questo giovedì intanto noi non sappiamo se, come dire, dalla prossima settimana anche ci saranno novità il lunedì noi, ovviamente, se ci sono novità le proponiamo su blog di Passi Italia ci avrete a Glimpse, eccetera, eccetera allora, giocatori in risalto Joris, Dries Mertens, quanto mi piacerebbe prenderlo Tagliafico, Arit, anche Tagliafico mi piacerebbe molto prendere Andrè, Maher, Mael, Abram, Cepitelli del Cagliari Gokhan Eihad, speriamo di averlo letto bene e Ansumane Fati eh, 2, 4, 6, 8, 10, 11 giocatori devo dire che me ne interessano 2 barra 3 perché anche Joris non mi dispiacerebbe allora, abbiamo scoperto che ci sono nuovi giocatori in risalto ci prendiamo il bonus giornaliero, molto bene 40 monete e ci andiamo a prendere anche posti in arrivo i 10.000 GP della campagna MyClub vi ricordo che eh, tutti i giorni, fino a domenica 22 si continuano questi 10.000 GP ieri, io invece ho preso i bonus della Legend Edition un giro di agenti, di un agente un po' scrauso e però, eh, anche i rinnovi di contratto sono molto più interessanti allora, agente speciale vediamo un po' serie Team Stars e i Players of the Week allora Team Stars, vediamo vediamo questo Team Stars 10% neri 30% d'oro 60% argento mi sa tanto che io questo agente non lo girerò è vero che ci sono c'è Ronaldo c'è Kulibali c'è Andanovic c'è Godin Skrini Arsavic Lukaku De Vrij Romagnoli Ribery Higuain molti dei giocatori che non c'erano nell'altro pool Allan Piontek Sirigo Suso Florenzi Brozovic però, però ragazzi 60% pallonini un d'argento e invece ecco qui abbiamo un numero di palle nere molto più interessanti e poi andiamo anche a vedere come crescono particolarmente i giocatori Chioris è una belva Mertens pure non scherza Cagliafico ce l'avevo in PES 2019 mi piaceva tantissimo sarebbe davvero più di Mertens mi servirebbe una squadra poi per ragioni affettive preferire trovare Mertens André interessante questo giocatore che non conosco dallo Schalke 04 Maher abbiamo Abram e poi abbiamo Malen scusate ve lo mostro se poi volete approfondire basta premere pausa Cepitelli del Cagliari non lo leggo perché è vergognosa la mia pronuncia anche lui non lo leggo però stiamo parlando di giocatori che ci interessano relativamente però ragazzi Tagliafico e Mertens meritano tre girate senza colpo ferire e quindi ci proviamo subito Italia 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 non Cepitelli Mertens oppure Oland 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 Vediamo Italia o Mertens o Cepitelli vediamo Cepitelli e io a difensori centrali ragazzi c'è no da regalarvene a profusione ecco qui Cepitelli e vabbè un difensore centrale in più ho solo Bonucci Chiellini et c'è et c'è e questo è andato così resistenza ce li prendiamo volentieri io faccio un altro giro immediatamente no giriamo subito e vediamo un po' Olanda o Italia Olanda o Italia o anche Spagna che ecco se sei Oris ci piace no è il giocatore del Barcellona a me sconosciuto Anzufati un Esa 80 ma non mi convince più di tanto e va bene due pescate pessime diciamolo e via proviamo la terza vediamo se questa è la volta buona per Ioris per Tagliafico per Mertens Inghilterra chi c'era in Inghilterra? non mi ricordo comunque una palla d'oro chi è chi è? qualcuno del Chelsea se non vado errato ma non mi ricordo Abram e beh oggi è andata Maluccio anche di punte ce n'ho a profusione niente Tagliafico niente da fare l'avrei voluto molto davvero molto in squadra o lui o Mertens o Ioris nessuno dei tre d'accordo agente speciale serie Team Stars se la faccio vediamo se se mi si riprende le pescate di oggi anche se la vedo brutta la vedo brutta però non si sa mai Cristiano Ronaldo ci piacerebbe ci piacerebbe Curi Bally e invece c'è una palla argento oggi ragazzi una tragedia proprio Juan Jesus così tanto per aumentare i miei difensori centrali 400 monete d'oro un po' buttate diciamolo diciamolo apertamente e vabbè capita capita basta non lo giro più si può girare quante volte si vuole ma io con Juan Jesus ho chiuso allora andiamo a vedere invece le sfide di oggi se c'è qualcosa di nuovo allora Coppa Challenge online andiamo se c'è qualcosa di nuovo la stessa e l'altra volta dovrebbe essere nuovo perché tutto quello che abbiamo visto lunedì non c'è più League Challenge vediamo accumula tre punti di partite premio per la prima volta 10.000 GP mi pare che non cambi assolutamente nulla ho ancora l'introduction online però me la conservo il GP adesso in questo momento non ho problemi vediamo la Challenge contro come invece vediamo se sono cambiati i premi vinci tutte e tre le partite no sempre GP niente niente giri di agente ebbè non è stato un grandissimo aggiornamento quello di oggi sì ci sono i giocatori in evidenza c'è questo agente della serie A ma io più di 5 oggi forse sarò un po' il dente avvelenato per le pescate non proprio meravigliose comunque non riesco a dare la mia squadra comunque cresce anche se Messi purtroppo è solo in prestito però c'è Cavani c'è Verratti c'è Antoni Lopez Romagnoli come vi ho detto difensori centrali a bestia proprio adesso c'è anche Abram c'è Cepitelli c'è Ronaldinho e poi in panchina c'è anche Lukaku con cui io non mi ritrovo molto sostanzialmente però forse lo cercherò di livellarlo il più possibile c'è Iago Aspas c'è Lautaro Martinez 82 c'è pure Fernandinho che come mediano è ottimo e poi ecco mi tocca adattare i chiellini come terzino sinistro d'accordo ragazzi allora cercheremo di capire se questo doppio aggiornamento settimanale sarà la normalità in PES 2020 o è stato un una tantum altrimenti significa che Konami vuole fare più aggiornamenti e cercare di farvi sciuppare di più sostanzialmente comunque oggi diamo 5 a questo aggiornamento non ci ha fatto impazzire vi do appuntamento oggi a pomeriggio con il TG Tech alle 15 sulla pagina Facebook asusrog.it e alle 16 in diretta su Simpliradio che comunque si può sentire in FM in Italia Centrale Roma Umbria Abruzzo ma online o tramite app si può sentire in qualsiasi luogo del mondo voi siate vi ringrazio ancora per l'attenzione aspetto i vostri commenti sull'aggiornamento di oggi e a prestissimo ciao e grazie l'attenzione